Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Romina Carrisi sta vivendo un momento molto bello e appagante della sua vita Di recente è apparsa una foto che la ritrae biondissima e diversissima rispetto a come siamo stati abituati a vederla prima La figlia di Romina Power e Albano è uno dei personaggi televisivi più in voga del momento Una donna bellissima e testarda che ha scelto di fare il suo percorso personale, lontano dall'Italia Romina Carrisi è nata sotto ai riflettori, data la fama dei suoi straordinari genitori Una infanzia immersa nella musica e nell'arte che fanno parte di lei da sempre Il cognome Carrisi però ha avuto per lei alcuni risvolti negativi Tra cui l'essere costantemente riconosciuta e non poter vivere esperienze normali senza il costante giudizio del gossip Ha deciso così di partire e capire davvero come ci si guadagna da vivere nella realtà Scelta discussa ma che le ha permesso di rientrare in Italia con una consapevolezza tutta nuova Di recente, il volto di oggi è un altro giorno è apparsa sul web in una foto dove è biondissima e quasi non sembra lei L'avete vista? Romina Carrisi Biondissima.Romina Carrisi, come accennato in precedenza, ha scelto di studiare e lavorare negli Stati Uniti per confrontarsi con la realtà quotidiana Ha così cominciato a lavorare come cameriere e come barista in club notturni Ha vissuto come una ragazza normale condividendo con colleghi e amici esperienze e avventure senza essere additata come la figlia di Al suo rientro ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo È diventata poi un volto fisso ed amatissimo del formatrai, oggi è un altro giorno Il programma capitanato da Serena Bortone le ha portato anche l'amore Romina Carrisi infatti è felicemente fidanzata con uno degli autori dell'amato programma La bellissima artista è stata taggata in una foto che la vede biondissima e anche se non è passato così tanto tempo dallo scatto, sembra davvero diversa La trasformazione evidente.Romina Carrisi ha condiviso coi fan durante l'estate momenti in barca e al mare Informissima è con la chioma castana che le sta benissima accanto al suo nuovo fidanzato Quando sui social è apparsa la foto di quando era biondissima, il pubblico quasi non la riconosceva A riproporre la foto è stata la collega Morlacchi, presente nella foto insieme a Serena Bortone Tre meravigliose donne che presto rivedremo nel formatrai oggi è un altro giorno Sono affiotate e non vedono l'ora di tornare a tenere compagnia ai telespettatori ogni giorno Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video